Nel giorno di Pasqua gli agenti di una pattuglia della polizia autostradale della sottostazione di Fano in servizio sulla 14 hanno salvato da morte certa un cane disperso da diversi giorni. La pattuglia dopo diverse segnalazioni arrivate in centrale operativa è arrivata al chilometro 185 in direzione sud tra Fano e Marotta ed ha individuato un cane di piccola taglia che impaurito ed infreddolito si era accucciato al ridosso del New Jersey centrale in una condizione di massima pericolosità sia per l'animale che per gli automobilisti. Con grande professionalità gli agenti hanno rallentato il traffico e portato il cane che non muoveva le zampe posteriori probabilmente per un urto con un veicolo in corsia di emergenza e poi trasportato in caserma ed affidato alle amorevoli cure della padrona che in lacrime ha ringraziato gli agenti per averlo salvato da una brutta fine. Anche sulla viabilità ordinaria sono stati estesi i controlli della polizia stradale oltre che in autostrada dove era prevedibile che ci fosse un aumento del volume di traffico per cui nel tratto di competenza da Cattolica da Ancona Sud sono state rilevate 156 violazioni per eccesso di velocità mentre su viabilità ordinaria sono state 96 le violazioni dei limiti di velocità ed inoltre 4 sono state le patenti ritirate sul posto per guida in stato di ebrezza. Nel lungo Ponte Pasquale la sezione di polizia stradale di Pesero ha messo in campo 50 pattuglie di cui controlli hanno portato ad elevare 269 contestazioni per un totale di 7 patenti ritirate e 460 punti decurtati per varie infrazioni. 4 automobilisti sanzionati per l'uso del telefonino durante la guida e 16 per la mancanza dell'utilizzo delle cinture di sicurezza e ben 203 sono stati i conducenti sottoposti all'alcol test.